E' ritenuto un luogo tenente del clan Licciardi e l'uomo di fiducia di Maria Licciardi. Luigi Carella, 51 anni, è arrestato ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e di Castello di Cisterna insieme con i militari della compagnia Napoli Stella. Le forze dell'ordine gli hanno notificato una misura cautelaria in carcere emessa dal GIP su richiesta della DDA. I reati ipotizzati nei suoi confronti sono associazioni di tipo mafioso e distorsione aggravata in quanto commessa per agevolare il clan Licciardi, componente di rango della federazione mafiosa chiamata Alleanza di Secondigliano che nel capoluogo partenopeo fa affari illeciti nella zona della masseria Cardone, nel rione Berlingieri, Don Guanella e Basto della città. A Carella viene anche contestato l'accesso in debito di dispositivi doni alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Due, gli orologi di lusso Rolex e altri oggetti preziosi sequestrati dai carabinieri. I militari hanno anche denunciato la moglie cinquantenne di Carella a cui viene contestato il possesso di un sistema di videosorveglianza puntato sul rione Berlingieri utilizzato per tenere sotto controllo il territorio. L'estorsione aggravata che viene contestata risale all'anno 2021. Secondo quanto emerso dalle indagini, Carella su mandato diretto di Maria Licciardi avrebbe costretto il proprietario di un garage di Secondigliano a pagare il pizzo. Il clan della Vinella Grassi aveva imposto una tangente da 15.000 euro al titolare dell'esercizio commerciale, poi ridotti a 3.000 grazie alla mediazione di Carella e quindi della famiglia Licciardi, che mirava l'acquisizione delle quote societarie del garage. A Carella viene anche contestato di aver assunto a partire dal 2017 il ruolo di direzione degli affari illeciti per conto del clan grazie al quale avrebbe gestito le piazze di spaccio, le estorsioni e anche la riscossione delle quote mensili concordate con pusher, ladri e truffatori.